Ammontano a 136.000 euro le somme stanziate dal Dipartimento Lavori Pubblici e Urbanistica per i lavori di manutenzione ordinaria nei due cimiteri cittadini di Marianello e Santa Maria. I bandi di gara, insieme a tutti gli altri relativi agli accordi quadro per lavori da eseguire sul territorio comunale, sono stati pubblicati sull'albo pretorio del sito istituzionale dell'ENTA. Entrambi verranno finanziati con fondi prelevati dal bilancio comunale. Gli interventi nelle due aree cimiteriali si rendono quanto mai necessari vista la condizione in cui versano alcune zone dei camposanti. Per la manutenzione ordinaria del cimitero dei Cappuccini di via Santa Maria, l'importo complessivo dell'accordo quadro è di 80.000 euro, di cui 76.800 base d'asta e 3.200 per oneri di sicurezza, non soggetti ad alcun ribasso. Il termine di validità dell'accordo tra la ditta giudicataria e il Comune avrà la validità di 24 mesi decorrente dalla data della stipula del contratto. Per quanto riguarda invece il cimitero nuovo di Marianello, le somme impegnate sono di meno. L'importo contrattuale è infatti di 56.000 euro, di cui 53.760 base d'asta e 2.240 per oneri di sicurezza, anche in questo caso non soggetti al ribasso. In entrambi i casi, l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio dell'offerta più bassa. La gara relativa al cimitero dei Cappuccini verrà esperita il prossimo 3 febbraio, quella del cimitero di Marianello, sette giorni più tardi.